Sì, molti che si fanno domande di questo genere probabilmente purtroppo non conoscono le risorse che hanno a disposizione i comuni. Parlavamo prima della ricerca indefessa da parte dell'ente di quella cifra che ci faccia arrivare a poter ristrutturare completamente il nostro ponte per acquistare un'area così importante. Non so quanto sia il valore di mercato ma purtroppo non è una possibilità soprattutto il mantenimento successivo. Il comune si dovrebbe mettere a farlo gestire da altri. È una cosa che non possiamo permetterci anche perché c'è la volontà forte del privato invece di farne come da regolamento urbanistico un bel piano di recupero che è stato anche presentato in comune, è stato naturalmente protocollato per cui lì si sta lavorando al suo iter. Naturalmente tutte le pratiche amministrative sono state a un certo punto fermate dalla questione Covid. Ora, è vero che non tutto si può ricondurre alla questione Covid, però certe pratiche amministrative sono veramente lunghe e laboriose e questa è una di quelle perché se avete occasione di vedere quanto abbiamo anche più volte pubblicato sulle nostre pagine web e sui nostri canali social vedrete che il piano che è stato presentato, il piano di recupero presentato è veramente importante, è veramente bello. È qualcosa che potrebbe ridare ridare alla zona, a tutta la zona perché non dimentichiamo che in quell'area c'è la nostra stazione ecologica che è una cosa particolare ma c'è anche una scuola, una scuola materna dell'infanzia, nido, pertanto ecco lì c'è bisogno che ci sia una bella, un'importante rivisitazione dell'area e il privato ha la capacità economica per investire e per far sì che quest'area diventi veramente bella, più bella di quella che all'epoca era l'area del Green Park. Noi confidiamo nella serietà del privato che ha presentato questo piano di recupero, naturalmente lo sollecitiamo come sollecitiamo tutti coloro che ci presentano formalmente un progetto, sollecitiamo che l'iter sia da parte loro sia completo, così naturalmente io sollecito i miei uffici perché visionino quanto prima le pratiche e richiedono eventuali integrazioni per far sì che questa cosa parta il prima possibile perché c'è bisogno che quell'area diventi nuovamente fruibile e bella alla vista di tutti.